e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi partiamo con una domanda che vuole guardare avanti cerchiamo di essere più positivi cerchiamo di ovviamente parliamo anche di della situazione attuale di luna terra perché oggi ho passato oggi e ieri in realtà ho passato più o meno tutta la giornata a dare una mano privatamente a molti di voi che non riuscivano perché avevano le coin bloccate i collaterali bloccati mi sono messo a disposizione e lo continuerò a fare quindi sappiate che se avete bisogno di aiuto potete scriverci o su telegram o su instagram noi siamo a vostra disposizione per dare una mano a brigiare i beth a capire se le coin sono bloccate o no e cose di questo tipo quindi voglio dirvi questa cosa che cerco di essere d'aiuto in tutto il modo possibile e adesso giustamente voglio anche guardare avanti chiedendomi abbiamo visto un crollo generale del mercato c'è stata una aspettate che lo andiamo a vedere sulla capitalizzazione complessiva guardate abbiamo riscontrato nelle ultime due settimane un 35 per cento sulla market cap e anche bitcoin è crollato abbastanza quasi di dello stesso ordine di grandezza e quindi la domanda che viene da farsi è allora io vedo che c'è un sentiment tremendamente negativo vedo che i volumi si sono rialzati vedo che abbiamo perso tantissimi livelli di supporto e adesso chiedendo in giro facendo anche sondaggi molti dicono che ci sarà da aspettare due anni di bear market che il il bottom sarà ancora più basso dobbiamo scendere ancora di più e allora la domanda con cui voglio aprire la live di oggi è questa when bottom ovvero secondo voi quale potrebbe essere il bottom di bitcoin e quanto tempo potremmo metterci a raggiungerlo mi raccomando commentate quindi se mi guardate su youtube scrivetelo nei commenti se invece siete qua in live con noi commentate nella chat che ci scambiamo opinioni oggi guardate c'è stato un po un rimbalzino che in realtà adesso si sta un po smorzando abbiamo riperso i 30 mila giusto per inaugurare il mio long ovviamente che ha scattato ieri madonna ieri è stato un risveglio veramente incredibile cioè del tipo che ti svegli vedi il dump innanzitutto e dici no ma quando tu pensi che sia già dampato e poi dump ancora non so se avete presente e poi ti viene in mente che avevi un long sotto i 28 mila ed è scattato e dici bene e adesso cosa facciamo in realtà faceva parte del piano ovviamente e quindi vediamo nel senso una posizione speculativa che avevo pianificato da tanto tempo con un setup preciso ci aggiorniamo comunque tra poco perché voglio iniziare allora innanzitutto con la lettura di qualche vostra domanda quindi vediamo cosa avete da dire da chiedere e poi andiamo a vedere la situazione attuale di terra luna quindi la situazione della chain se si può muovere le coin se le si può vendere che cosa ho fatto io che ve l'ho condiviso su telegram poi in tempo reale in realtà quindi se mi seguite davvero dovreste già sapere tutto quanto e basta vediamo allora partiamo partiamo un po con le domandozze con le vostre opinioni 13k 20k adesso facciamo anche un bel sondaggio così nel dubbio rischio double bottom quest'anno bene ottimo speriamo nel senso double bottom quale sarebbe poi vediamo perché siamo già un lower low mi pare o no su btc allora tac secondo me si eh addio adesso dipende da come chiudiamo la settimana ma vi immaginate se il settimanale questo sarebbe il best case scenario di questa settimana cioè immaginatevi di recuperare questo supporto a 32.000 e andare a chiudere qua sopra cioè comunque vorrebbe dire che abbiamo fatto cioè era esattamente no il setup su cui ho basato il mio long lo sweep dei low qua sotto tac vedete sweepati e poi l'assorbimento se ci fosse questo assorbimento ci sarebbe anche possibilità poi di un follow up di domanda perché è una sorta di swing failure pattern anche si può dire cioè il tentativo di fare un low effettivamente più basso ma poi assorbito e quindi che va a concludersi con una candela che chiude sopra il nostro vecchio supporto che di fatto rimane non perso no bucato dalla shadow ma ancora non perso altrimenti se ci chiudiamo sotto eh che dire eh di fatto ufficializziamo il primo lower low settimanale sul macroscopico e io inizio a ragionare sull'incremento dello short di copertura quindi c'è da vedere certo se la settimana seguente riassorbiamo subito è poco differente dallo swing failure pattern se al contrario rimaniamo qua sotto e cominciamo a gravitarci e a creare una nuova comfort zone perché adesso andiamo a rivedere anche i volumi al momento la comfort zone era più o meno qua se ne creiamo un'altra qua sotto eh significa che eh di fatto il low è perso abbiamo una nuova struttura e tale struttura quindi va in qualche modo abbracciata tra virgolette no che per me vuol dire andare a incrementare di un altro 5% nel momento in cui faremo la prossima leg up lo short di copertura vi terrò chiaramente aggiornati e vi ricordo amici miei che io vi condivido ho deciso nel momento in cui ho aperto questo canale ho deciso di condividervi tutto quello che faccio perché altrimenti io mi chiedo a cosa serve aprire un canale se devo dire le cose senza la mia opinione no diremmo tutti la stessa cosa ogni tanto si viene accusati per questo ed è un peccato perché lo trovo completamente ingiusto è irresponsabile da parte di chi lo fa ma eh che dire io ve lo ripeterò fino alla nausea vi faccio sempre questi disclaimer al fine che proprio vi vi perforino la scatola cranica e eh vi continuerò a dire quello che penso perché altrimenti questo canale perde di utilità e il in questo caso lo short di copertura è basato sulla mia strategia ok non la vostra quindi di nuovo non imitate alla cieca tutto quello che faccio come le mie operazioni i miei investimenti la mia locazione e eh i miei trade perché ognuno di noi ha un livello di rischio differente ha una strategia differente e quant'altro voi conoscete la mia perché ve la mostro vi faccio vedere l'asset allocation ogni volta che la cambio più di così non so veramente cosa fare ma è la mia ragazzi è su è impostata sul mio livello di rischio bene quindi detto questo il mio piano è proprio quello in caso di eh nuova comfort zone passatemi il termine qua sotto incrementare lo short di copertura i 20k sono il prossimo effettivamente supporto eh solido vedete che è qua ed è anche no non è la dunque sì è il precedente top che qui non si vede perché su ftx non ci sono i dati precedenti al 2019 comunque questa è un po' la zona da da tenere sotto controllo no 20k e sotto come prossimo supporto che ridendo e scherzando ieri nel flash dump siamo arrivati già a 25 quindi veramente impressionante oggi c'è stato un recupero anche del mercato altcoin che aveva sofferto ha sofferto tantissimo ragazzi se guardate la perdita effettiva delle altcoin dai massimi alla situazione attuale ce n'è moltissime almeno 90 per cento molte meme coin molte coin del settore metaversi gaming che erano esplose e hanno pesantemente ritracciato quindi luna non è stata l'unica vabbè luna ha fatto clamore perché è proprio andata a zero ed è stato un caso pazzesco di proporzioni incredibili che poi ha avuto dei colpi di coda anche sul resto della defy ma se guardiamo poi il mercato al coin in generale ce ne sono alcune che non sono assolutamente da meno in termini di performance e per questo motivo è fondamentale adesso sto rivalutando per bene l'asset allocation anche in vista del come dire della situazione abbastanza come la si può definire tesa del nei confronti delle piattaforme c'è fai e defy di fiducia no quindi non vorrei che ci fosse una cascata di sfiducia nei confronti delle piattaforme ripeto defy e ce fai o altri attacchi simili che vanno a ribaltare completamente altre piattaforme quindi sto rivedendo la mia asset allocation per il ribilanciamento di fine mese innanzitutto che non vedo l'ora di farlo con questo ritracciamento generale nonché per l'andare un po più a frisk a scapito dei rendimenti delle di alcune coin magari riducendo l'esposizione a defy e ce fai comunque vi aggiornerò ma questo per dire di quanto è importante sempre e comunque l'asset allocation perché alla fine dei conti se si alloca in maniera furba no il proprio capitale si riesce a contenere le perdite anche nei casi disperati come quello di questi giorni che per me che vi ho condiviso no la mia riflessione riguardo e quello quell'autocritica lato investitore no che mi sento di aver fatto verso di me l'aver sottostimato il rischio e l'essermi esposto un tantino troppo a prescindere da ciò comunque la perdita effettiva finale è stata del 4 per cento circa del mio portafoglio perché avevo sull'una meno del 2 per cento se vi ricordate vi mostravo l'asset allocation l'obiettivo era fare un pack fino al 5 per cento del portafoglio cripto che è il 25 del totale ed ero arrivato all'1 e 8 1 e 9 giù di lì no ogni mese andavo avanti perché in realtà quando avevo fatto il primo video sull'una io non avevo ancora iniziato a investire no l'ho fatto dopo l'altro video dove ho detto iniziato il pack sull'una e solana se vi ricordate lì è stato l'inizio e poi fatto il pack sul rialzo sono arrivato più o meno al 2 per cento e poi c'è stato l'infelice epilogo che mi ha fatto perdere tutto quindi quel 2 per cento lì l'ho perso di fatto ma il 2 per cento del 25 per cento quindi 1 0 e 5 all'incirca un pelo meno il problema per me è stato usp no io avevo su usp una parte di liquidità che alla fine gli usp come vi ho condiviso ieri mattina su telegram no ho fatto la ho ripreso un attimo la lucidità perché l'altro ieri nell'ultima live ero meno lucido e lo avete visto anche voi ma l'ho voluta fare per quello nel momento di ripresa della lucidità è fondamentale mettersi lì guardare il proprio portafoglio e dire adesso cosa faccio e la riflessione è stata la seguente è stata il mercato sta dampando credetemi ust e luna era la minore delle mie perdite in quel momento lì perché su btc ho il 75 per cento sono esposto anche all'azionario insomma quindi quello è stato btc ad esempio ed etereo mi hanno fatto perdere di più no in questo periodo perché sono più esposto e quindi ho detto bene c'è da contenere le perdite in primis e in secondo luogo avere liquidità pronta per il ribilanciamento e allora ho detto sai cosa faccio vendo gli ust li ho venduti a 0 6 circa ve l'ho condiviso appunto ieri e ottengo la liquidità pronta cioè realizzo la perdita e mi metto il cuore in pace e tengo la liquidità pronta in questo modo ho contenuto le perdite la metà non assicurata l'ho venduta la metà assicurata vi terrò in aggiornamento perché insurace che è il protocollo che ho utilizzato ha proprio pubblicato oggi il fatto che pagherà l'assicurazione di depeg e vorrei ben vedere perché oggi effettivamente la tua app di 10 giorni è stata sotto a 0 88 che era la soglia per la il pagamento dell'assicurazione voi direte perché non ti sei assicurato tutto perché ho sottostimato il rischio ragazzi questa è la risposta onesta a quella domanda potrei tranquillamente dirvi no ma in realtà ero tutto coperto no ma ho venduto appena prima in realtà non è così ma amici io ve lo nel bene nel male siamo tutti qua a condividere un percorso io sono un investitore come voi e nei video che ho fatto su luna non ho avuto nessun guadagno qualcuno purtroppo lo insinua ma non è così io ho studiato luna mi piaceva mi piaceva troppo ho sottostimato il rischio l'ho condiviso con voi non mi ha dato un euro nessuno io ho perso probabilmente più della maggior parte di voi che mi sta guardando quindi siamo tutti nella stessa barca amici miei adesso bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti andare avanti e prendere delle belle lezioni da ciò che è accaduto e capire come muoverci primo passo perfezionare l'asset allocation e gestire i rischi in maniera più consapevole questo è uno scoglio a cui vanno incontro tutti prima o dopo se fosse successo nel 2017 ragazzi io avrei perso non so quanto perché nel 2017 non avevo questa consapevolezza dei rischi io facevo delle mosse degli all in se vi raccontassi in quante ICO sono entrate ho perso tutto cioè fortunatamente poi studiando approfondendo e razionalizzando ho detto iniziamo a costruire un portafoglio ben fatto quella è stata la svolta guadagnavo meno durante i bull market e mi sentivo rodere no dicevo guarda quante cose che mi perdo perché ribilancio sono esposto poco solo che poi quando accadono queste cose guardo in alto e dico grazie ti benedico perché è lì che sta tutto no gestione del rischio minimizzare le perdite e quindi questa è la prima lezione veramente da portare a casa la seconda sulla quale vorrei fare anche un video a breve è parlare un po delle stable coin come funzionano no ne avevamo fatto uno un po di tempo fa ma volevo aggiornarlo perché ho visto che ad esempio anche con il panico usdp che c'è stato i giorni dopo c'è un po di incomprensione sul funzionamento delle stable coin cioè ma perché tengono il peg come funzionano esattamente che differenza c'è tra dai usdc usdt e ust che ha finita male e quindi è importante secondo me capire anche quello quindi vorrei fare ditemi voi se poi vi può interessare o no un approfondimento sulle stable coin capendo il livello di rischio di ciascuna i pro i contro di ciascuna ok quindi un aggiornamento di quello già fatto poiché altro vi ho preparato invece che pubblicherò domattina perché adesso lo carico ed è pronto vado faccio tardi oggi perché ve l'ho detto passato abbiamo passato perché vi ricordo che non sono solo io a lavorare a questo progetto siamo un team di nove persone adesso e molte di noi hanno passato la giornata a cercare di dare una mano a chi ne aveva bisogno quindi vi incentivo anzi a continuare a scriverci se volete semplicemente far due chiacchiere avere un po di di confronto con noi o un aiuto concreto se avete problemi a muovere le coin o a fare operazioni sulla chain magari non a mezzanotte abbiate pietà non non rispondiamo fino a mezzanotte ma cerchiamo davvero con tutti noi stessi di metterci alla a disposizione di chi ha bisogno di una mano quindi cosa vi volevo dire aspettate sorsello d'acqua adesso cosa è successo innanzitutto oggi per essere sul pezzo hanno prima bloccato la chain e poi l'hanno risbloccata l'ultima notizia che ha sbloccata quindi adesso la chain produce blocchi si può muovere cose quindi buona parte delle domande di oggi era chi magari aveva bet su anchor e aveva borrowato ust e diceva voglio sbloccarlo come faccio allora i passi sono due c'è da chiudere il prestito innanzitutto cioè ridare gli ust e sbloccare i bet e poi quei bet che non hanno perso valore attenzione sono sempre degli ethereum quindi non non hanno nulla a che vedere vanno brigiati fuori da terra brigiateli su ethereum tramite il wormhole bridge il wormhole bridge lo raggiungete qua portalbridge.com questo e vedete che potete andare a scegliere tra dall'accendi origine terra c'è di destinazione ethereum select token vedete potete mettere di ops ho sbagliato qua era search name beth eccolo qua vedete poi attenzione che deve essere il web beth si chiama qualcosa del genere quindi la versione wormhole quindi da ancor prima dovete passare a quella se no non vi vedete il bilancio una volta che ce l'avete qui la mandate su ethereum e siete ragazzi in pace potete essere tranquilli anche se la chain dovesse ribloccarsi perché i vostri beth sono di nuovo su ethereum e poi lì con calma perché attenzione che adesso c'è anche un uno sbilanciamento tra beth e st e th e th alla fine a sfavore chiaramente delle versioni state non c'è ragione di rushare verso eth di correre a fare il cambio una volta che a su ethereum siete tranquilli quindi mi raccomando mantenere la calma in questa situazione e portare fuori gli asset da terra quella secondo me è la prima cosa da fare e basta poi su binance ho visto che c'è stato un delist list credo che l'ultima notizia sia il listing il relisting se non erro perché c z ha fatto una telefonata con non so chi e si sono chiariti e quindi rilisteranno dunque quando may 13 dovrebbe già essere relistato o no non lo so dovrebbero aggiornatemi anche voi che avevo visto il delisting e poi però avevano da questa è l'ultima notizia no no delayed 230 pm utc del 13 maggio quindi dovrebbe essere già disponibile oppure no non lo so fatto sta che questa è un po la situazione attuale no e ripeto l'assicurazione io sono contento di questo servizio perché se davvero funziona così bene c'è d'ora in poi caspita la userò di più nel senso è veramente un qualcosa di utile io spero che ci sia focus su queste cose faccio anche un'ultima riflessione perché dunque il caso luna ha causato una sfiducia generale verso il layer one ho visto se ci fate caso guardate il tvl della defy sia quasi dimezzato è stato pazzesco e se guardiamo sulle chain complice anche il dump del mercato è ovviamente però il dump c'è stato anche adesso non mi fa vedere il tvl in valore assoluto però anche sulle altre chain ah no scusate si me lo faceva vedere aspettate che ci torno guardate che roba cioè ethereum meno vabbè meno 8 per cento meno 32 in sette giorni avalange meno 40 phantom meno 50 chronos meno 40 poi cos'altro c'è vabbè anche le altre c'è minori vedete come osmosis vabbè osmosis aveva dentro liquidità anche in ust quindi potrebbe essere anche eluna aurora meno 60 cioè anche le chain comunque non principali anche polkadot ha preso una bella botta che qua non c'è ma anche da un punto di vista proprio della price action se voi andate a vedere la price action delle principali chain oggi ha rimbalzato un po ma guardate ieri dove fin dov'è dampata tra l'altro dot se recupera vedete questa zona non è affatto male non è affatto male e quindi no il discorso che volevo fare era di che tutto questo potrebbe portare un maggior focus su ethereum e dintorni come chain diciamo più sicura perché la domanda che viene da farsi è un attacco del genere no perpetrato su un protocollo su un altro un altro ecosistema o su un bridge i bridge ragazzi sono un punto debole del sistema e quindi meno se ne usano e meglio è e pertanto i layer 2 secondo me potrebbero essere una soluzione che accelera no come adozione come interesse io sto tenendo esattamente gli occhi sui layer 2 optimism arbitrum zikai roll apps e simili quelli veri lo dicevo ieri nella live coi ragazzi del cartello no che dicevamo appunto il fatto che i bridge hanno questa debolezza e quindi layer 2 veri cioè non polygon che comunque è ottimo per altri motivi ma è una side chain no il layer 2 è proprio quello che condivide tutto con ethereum e quei layer 2 quelli che pagano l'affitto ethereum come piace dire a me quei layer 2 potrebbero avere una bella ondata di interesse no perché la defy si potrebbe concentrare molto lì per sfiducia di tutti questi punti deboli no che collegano una cena all'altra e potrebbero avere un effetto drain cioè un prosciugamento della liquidità da altre chain questa è stata una mia personale riflessione bene allora torno un attimo da voi allora allora su binance non si riesce a comprare luna non lo so poi guarda l'ultimo post di stable chain su twitter c'è un link a una proposal per la ricostruzione e avevo visto che c'è la volevano fare un fork una cosa del genere no una specie di fork ragazzi io vi dico la verità adesso non è il momento per come la vedo io di nuovo non è un consiglio finanziario non è è una mia personalissima opinione per come la vedo io quello che faccio io è stare a guardare cioè non ho assolutamente intenzione di riprendere posizioni affrettate correre dicendo si riprenderà io la mia decisione l'ho presa ieri quando ho liquidato gli ust i luna li ho dati per persi come vi ho comunicato e basta e adesso si sta a guardare finché non si calmano le acque e lo stesso vale per la come si chiama per la per la price action di bitcoin quello è luca legge il nuovo post di doc one dai non ci credo che ha tweetato non ci credo neanche se lo vedo non ci voglio credo infatti non già mi sembrava mi sembrava un po strange mi sembrava un po strange comunque no ripeto questo è il questo è quanto questo è quanto e adesso poi mi mi aggiorno mi aggiorno di volta in volta perché veramente ogni dieci minuti succedono cose e stare sul pezzo diventa anche un po più complicato ha scritto su terra a sul forum su aggora ok ok e poi me lo leggo bene perché mi immagino che sia un pappardellone non indifferente quindi se volete fare un riassunto a proposito giusto appunti così ne ne discutiamo per capire cos'è una proposal sono in colle stanno rilistando luna su e me l'hanno già rilistata o no luna su binance quando rilasciate la vostra app fuori dall'italia vivo fuori italia non posso scaricarla ma ragazzi in realtà l'idea era di tenerla in italia per una ragione di lingua soprattutto perché fuori italia dovremmo fare la traduzione che è prevista in realtà il primo rilascio però vuole essere il calcolatore finanziario cioè metterci dentro i ribilanciamenti e tutte quelle cose utili per la gestione del proprio capitale no che sono cioè l'obiettivo per cui è nata quest'app è proprio dare capacità no all'utente all'utilizzatore di gestire il proprio capitale in maniera concreta perché prima si prende il controllo del portafoglio e del capitale dei flussi in entrate uscita e meglio è credetemi è fa la differenza e quindi poi la traduzione viene dopo a tal proposito non so se avete notato abbiamo attivato i 14 giorni di prova per chi vuole fare un test no delle versioni pro con tutte le statistiche la il trading journal e tutto quanto se vi va potete provarla senza assolutamente nessun impegno per 14 giorni scaricate la nuova versione che integra la punto la questa prova gratuita e godetevela spero che vi piacerà luca con cronos cosa farai con cronos non cambia nulla con cronos non non ho cambiato nulla per per la mia asset allocation quindi rimango con l'obiettivo 2 per cento considerate che quel 2 per cento il 2 per cento del 25 perché anche lì è importanti come si chiama quest'app finab si chiama guardate la linko e la linko perché credo davvero c'è anche la versione free è per chi non vuole cioè è gratuita non va pagata per forza nel senso poi ognuno in base a quello di cui ha bisogno queste sono le features poi in base ai vari piani ma anche il piano free è insomma secondo me è valido torno da voi torno da voi allora vi dicevo che che cos'è che vi dicevo mi sono perso mi sono completamente verso troppe domande in troppo poco tempo cosa dicevamo ragazzi flash flash niente andiamo avanti con le domande nel frattempo cosa ha insegnato luna esiste solo btc c'è fiducia nella de fai questa mi piace questa domanda perché effettivamente vedo molta discussione a riguardo vedo un molta sfiducia nella de fai molta sfiducia in tutto ciò che non è btc ma io non sono del tutto d'accordo cioè è vero io sono il primo ad avere in allocazione se qual se mi seguite davvero sapete quello quella che è la mia allocazione e sapete che il 75 per cento del portafoglio critto ce l'ho in btc ed è totale cioè il resto il 15 è in eterium e il resto sono altcoin quindi questa è la mia esposizione no giusto per farvi capire che non è che reputo btc minore io sono quasi totalmente esposto in btc sulle cripto questo va sottolineato importantissimo no e quindi questa è la prima cosa perché uno dice sì vabbè ma luna mica luna ma ragazzi cioè la prima cosa che io ogni volta dico e faccio è quella di non andare fu il critto e pensate esser stati io stesso faccio il paragone no pensa se fossi stato full critto 100 per cento critto altro che la perdita di luna cioè avrei perso molto di più dal dump di btc avrei dimezzato il mio portafoglio in questi giorni e invece sono riuscito a perdere il 4 per cento in un giorno il 10 e qualcosa totalmente no e questo è ciò che fa l'asset allocation ciò che fa la pianificazione di portafoglio ed è questo che io questo sì che lo voglio promuovere no non voglio promuovere una coin o promuovere un'altra coin come qualcuno ingiustamente mi dice che faccio io parlo di tutto ciò che trovo interessante ne parlo bene se mi piace ne parlo male se non mi piace non ho nessun interesse a parlarne bene perché nessuno mi ha mai pagato per promuovere una coin e qui ve lo ribadisco ma poi quello che rompo ogni volta le palle fino a farvelo uscire dal cervello è di allocare bene di contenere i rischi di non andare full cripto dico sempre chi va full cripto per me è folle qualcuno mi ride dietro ogni tanto i massimalisti dicono a boomer e va bene rido anch'io ognuno ha la sua no è come dire la sua cosa la sua strategia poi luna busd su binance bene adesso ma cosa sta succedendo la proposta la linkata nel post di stable chain che ti dicevo ok allora andiamo a vedere andiamo a vedere dai stable chain eccolo qua è uno di terraform labs allora vediamo dov'è questa no dov'è ragazzi me la linkate mi riuscite a no non sono abilitati link mi sa porca miseria vado direttamente sull'agorà vado direttamente sull'agorà aspettate un secondo dunque do quon poteva almeno chiedere scusa ma più che chiedere scusa a me sarebbe piaciuto capire cosa ne ha fatto delle riserve di btc che non si è più saputo niente e qualche aggiornamento cioè quello sì che mi sarebbe piaciuto gran pippone di cz per i motivi del delisting poi la rimettono dopo qualche ora non si capisce più nulla allora grazie per il link intanto allora 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 dov'è e l'ho visto che me l'avete postato miseriaccia ci sono troppi messi eccolo qua lo vado a prendere eccoci tac tac leggiamocelo insieme comunque no apparentemente aspettate apparentemente cz non cioè binance l'aveva delistato perché appunto terraform labs non si era più fatto sentire eccolo qua e eccolo qui eccolo qui allora adesso lo leggiamo insieme e poi però non lo so si si sarà fatto sentire ha detto ascolta dai non lo so non so questo è stato ciò che è emerso a fork of terra per ok la sua prospettiva ci sono ancora vari miliardi di dollari di usd e il valore di luna è arrivato a zero anche se il peg si recuperasse gli holder di luna sono stati liquidati e diluiti che non avremmo più le forze per ricostruire l'ecosistema una usd ha perso troppa fiducia esatto che cosa rimane mentre usd è stata la narrativa centrale di terra sulle negli ultimi anni il l'ecosistema e la community ha ciò che vale la pena di preservare abbiamo costruito uno dei migliori eccetera eccetera terra station a milioni di utenti brand recognition ok quindi la community deve ricostituire la chain per preservare la comunità la community e il gli sviluppatori i validatori dovrebbero resettare la network ownership a un miliardo di token distribuiti tra 400 milioni ai luna holder prima del depegging quindi vuole portare indietro insomma non è proprio il massimo della decentralizzazione 400 milioni quindi il 40 per cento agli holder di ust e 100 milioni agli holder di luna nel momento finale dello stop della chain 100 milioni al community pool tutti gli altri luna dovrebbero essere messi in staking il network dovrebbe incentivare la sicurezza con un'inflazione del 7 per cento perché le fee non sarebbero più abbastanza per pagare per la sicurezza senza le swap fee perché questa ridistribuzione ha senso? gli ust holder hanno bisogno di una grossa fetta del network perché il debito degli holder del network deve essere compensato per i token che hanno il dato fino alla fine cioè vogliono ricompensare chi è rimasto dentro terra ha bisogno di una community per continuare a crescere ok è difficile il futuro e ust quindi non c'è più cioè vogliono ricostruire tutto vogliono ricostruire tutto cioè ditemi se ho capito bene torno anche da voi tolgo il bianco sotto vogliono ricostruire tutto facendo un flashback di prima del peg ridistribuendo i token a chi li aveva prima una roba del genere cioè tipo una macchina del tempo una sorta di macchina del tempo non lo so cioè mi sembra una cosa un po' vediamo sono curioso di vedere se raggiunge l'unanimità o no un fork insomma si è un simil fork esatto è una sorta di come si dice di 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 fork si perché prendi un istante temporale ricrei la chain e riai token in base a queste condizioni boh devo devo rifletterci non ho capito con 400 milioni rimborsano 11 400 milioni di luna ridistribui cioè il 40% e 40 li danno agli holder di luna e ust prima del the peg questa sembra la sembra il meme che girava i tempi ragazzi ma sapete che è vero c'è un po' di similitudine con il dao una fotografia del passato esatto non mi sembra una pessimissima idea beh insomma non lo so ma l'audit di luna non dava rischio bank run non lo so se l'audit lo dava ma era un rischio nel senso lo si conosceva ma il rischio bank run c'è su tutte le piattaforme defy cioè teniamolo bene in considerazione che qualsiasi defy o cefai non sopporterebbe una bank run di questa portata cioè questa è una condizione di base che va tenutamente ne parlavamo anche ieri sera e quindi bisogna riflettere sulla probabilità che ciò avvenga questo è un po' il rischio quanto è probabile come nelle banche se tutti vanno a prelevare in banca allo sportello la banca collassa cioè non ha la liquidità per tutti e questo vale anche nella defy solo che nella defy non la puoi fermare perché non è che puoi dire che ne so basta chiudiamo tutto non si può più prelevare no se no non è non è decentralizzata hai una tua classifica personale sulle stable coin dalla più sicura alla meno sicura beh guarda la più sicura le più sicure secondo me sono quelle collateralizzate direttamente da dollari o equivalenti come usdc usdc è la più sicura perché è quella più come si dice più regolamentata anche più trasparente e quindi è è così nel senso è quella un po' più sicura grandi qualcuno mi aveva mandato il link in chat privata vi ringrazio e le altre quelle sovracollateralizzate sono al secondo posto tipo dai per dirne una e quelle algoritmiche sono quelle più a rischio di fatto ma la chain l'hanno fermata dovrebbe essere ripartita la chain in verità dovrebbe essere ripartita con la situazione in borsa di coinbase è ancora la più sicura e ho letto queste cose su coinbase ma sono rumors apparentemente cioè che dell'insolvenza di coinbase non non mi sembra che ci siano notizie ufficiali no poi cosa avete detto aspettate che c'era era passata una domanda ah come sono le riserve di USDT adesso guarda a tal proposito vi mostro questo articolo dove proprio Tether ha detto che vedete le sue riserve di commercial paper che sono dei diciamo titoli di debito abbastanza a basso rischio però meno liquidi sono stati ridotti proprio per la scarsa liquidità e sono stati trasformati in treasuries quindi bond statunitensi government bond e questo ha reso ancora più liquido il basket di asset che ci sono dietro a Tether poi in realtà aspettate perché dove che era su the block forse nei dati io avevo visto che c'è stato intanto un redeem folle anche di DAI c'è un sacco di DAI sono stati bruciati c'è stato un po' una fuga anche da DAI ma ha mantenuto il peg aspettate stable coins allora ma qua non so se si vede tutto qua c'è ancora UST anche sì no non sono non credo siano aggiornati USDC vedete anche lui è in fase di redemption e DAI c'era DAI non mi ricordo dove l'ho trovato niente se l'avevo condiviso su telegram comunque che ci sono stati un sacco di di burn di DAI perché c'è stato un po' una fuga in generale dalle stable coin poi ma DAI chi è che ma DAI non ho capito se è uno scherzo no comunque scherzi a parte DAI è sovracollateralizzata da da debito no quindi tu puoi depositare Ether puoi depositare altri token così e prendere e mintare i DAI con un tasso di collateralizzazione del 100 e passa per cento quindi depositi 1000 di ETH e prendi 700 di DAI per dire e quindi c'è sempre quel discorso lì no di di cosa cosa cioè di più collaterale della liquidità a disposizione l'importante è quello no è che conta poi cosa ne pensi del rumor che gli ex investitori su terra andranno su Polkadot è un rumor nel senso tale deve rimanere Luca ma per chi si è sovraesposto fin dal principio facendo quell'errore avendo bilanciato male cosa dovrebbe fare secondo me ripensarci cioè ristrutturare completamente il proprio portafoglio dall'inizio mettersi lì e cancellare tutto quello che ha fatto fino adesso prendere un foglio bianco e dire come voglio strutturare il mio portafoglio che cosa ci voglio dentro ok quindi quali asset in che distribuzione per quale motivo la liquidità anche essa va diversificata no e se si è in stable coin si mette in più stable coin e in parte in fiat comunque è sempre meglio e magari non solo in euro ma cioè scusate non solo in dollari ma anche in euro qualcuno che conosco fa addirittura il paniere valutario no con gli yen con i franchi svizzeri e questo è no che c'è da fare da ripensare Luca quando ci regali l'enciclopedia sembra un gran lavoro guardate ragazzi questo è un regalo che mi ha fatto un amico della community a Roma che veramente è stato un gesto bellissimo secondo me perché è un'enciclopedia fatta a mano guardate quante cose ci sono dentro cioè c'è veramente una quantità incredibile di cose appunti suoi anche tutto in ordine inalfabetico quindi molto più ordinato per me non so se lo vedete no forse no forse sì e me l'aveva fatta vedere a Bologna e gli ho detto ma che figata e allora poi è arrivato a Roma e me ne ha regalato una copia e io ho detto fantastico stamattina ve l'ho mostrata su Instagram e in un sacco mi avete chiesto se si poteva digitalizzare e pubblicare e perché no io gliel'ho scritto se lui è d'accordo io sono per il farlo mi ci metto anch'io a digitalizzarla e ve la rendo a disposizione in maniera completamente gratuita ovviamente se lui è d'accordo ma penso di sì perché l'idea era quella quindi vi tengo super aggiornato super aggiornato poi allora taratatac hai mai sentito parlare di Aurora sì Aurora è quella chain e WM compatibile di Nier se non sbaglio me la sto studiando Nier me la sto studiando perché ci volevo fare il video sono appena tornato dalle vacanze come sta andando l'una ma vi immaginate tipo uno che è stato non lo so sapete il meme no? sono stato in coma sette giorni come va come va le crypto ops questo è ma nexo è esposto a bank run risk tutte le cefai sono esposte a bank run risk se tutti i clienti prelevano contemporaneamente succede un casino succede un casino su tutte quelle piattaforme cefai e defai assolutamente sì Luca perché non investire ora in luna da zero può solo che salire no? ragazzi ne parlavamo anche nell'ultima live me l'avete chiesto io vi ho detto personalmente come sempre è una mia opinione personale questa è una gigantesca scommessa e quindi non lo so ragionateci vogliamo provare a rischiare così tanto sperando che recuperi io personalmente sto a guardare ve l'ho detto però nel senso non vi devo dire io che cosa c'è da fare è gambling bravo ben detto è gambling è una scommessa nexo sono bloccate tre mesi bravo perché la come si chiama la bank run è meno probabile ma l'ha messo un po' tutti infatti il lock se ci fate caso c'è chi vi fa fare il KYC vi fa prelevare dopo 48 ore chi vi blocca per tre mesi cioè vedete è un po' quel discorso l'obiettivo è quello così se vedono che c'è fuori uscita di capitale loro aggiustano il loro debito e fan sì che riescono a gestirla più facilmente però in caso di panico massiccio il problema si pone lo stesso bisogna essere obiettivi no bisogna essere obiettivi e ora come mettere a rendita le stable eh ragazzi mettere a rendita le stable con gli altri ci sono protocolli DeFi meno meno rischiosi con stablecoin chiaramente non algoritmiche ci sono Curve Aave le piattaforme di landing ci sono le Cefai però non esiste il rischio zero neanche lì ne abbiamo sempre parlato no anche nel nostro corso di DeFi quello gratuito parliamo dei rischi li ripetiamo ogni volta Ragpull hack dello smart contract liquidity crunch quindi bank run e quello è quello è no Luca non ho capito perché si è preferito salvare la stable coin annacquando luna eh guarda quello che è successo è stato utilizzare gli holder di luna un po' come exit liquidity di chi deteneva UST è stata una scelta non so se buona non buona ma tra l'altro non so se avete visto la insomma la coin di 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 tron no quella usbd che per ora ha tenuto il peg lì mi aspettavo una fuga gigantesca non cioè impressionante impressionante ma lì forse c'è un po' di collaterale per adesso c'è però sinceramente fa parte sempre del del livello di rischio abbastanza alto luca ho sentito parlare di reato purto secondo te è veramente così no ragazzi si sta facendo secondo me adesso dei film incredibili mossi dall'emotività e tutti che pensano a chissà che cosa io non so cos'è successo no la cosa certa è che c'è stato un attacco iniziale che ve l'ho descritto nell'ultima live no quella a caldo dove sono state è stata tolta liquidità dal pool di curve proprio mentre creavano il for pool quindi c'era già poca liquidità e nel mentre è stato fatto un dump massiccio no è stato usati 2-3 miliardi di dollari di capitale per innescare questo attacco e prossimamente su Netflix sarebbe interessante sarebbe interessante ed è stato un come si dice un cioè un innesco un innesco un po' come qualcuno l'ha paragonato a quello che ha fatto Soros no al tempo di andare a manipolare il mercato con grosso capitale e per suo tornaconto personale perché chi ha fatto questo attacco ha guadagnato quasi un miliardo quindi porca miseria attacco uguale reato eh ragazzi dipende non so lì cioè se lo fai ad un'istituzione sì se lo fai a una DeFi non lo so se dire fa parte del gioco cioè non saprei neanche cosa dire no è un po' come quando un hacker buca uno smart contract perché c'è una debolezza nel sistema è così purtroppo è così giuridicamente no non lo so cioè non me ne intendo da un punto di vista proprio giuridico ma Luke ma si poteva evitare proprio questo mettendo un vincolo di 24-48 ore sul prelievo di UST non lo so sai perché comunque i flussi in uscita oddio magari si si andava a ridurre la selling pressure però oddio mettendo un lock magari di più di 24-48 ore un po' come fanno le cefai no mettere un mese di lock così se vedi la prima ondata di bank run nel frattempo non vai a saturare il meccanismo di recupero del peg perché il problema è stato proprio il recupero del peg che cioè la saturazione del minting di nuovi luna che non non ha fatto recuperare il peg in tempo poi dunque dunque su warmall recover tx mi rimanda i fondi su quel po' no sul wallet che ha lanciato la transazione si 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 cioè oddio aspetta in che senso se tu se ti rimborsa perché fallisce qualcosa si altrimenti se tu lo briggi su un'altra chain ovviamente devi mettere l'address di destinazione attenzione Luca non ho mai capito bene come funziona la tua copertura short o quella long lo faresti solo su btc e a che leva guardi in realtà si può fare su tutto nel senso tu puoi dire io prendo parte dei miei btc dei miei eth di quello che voglio ma anche dei luna teoricamente si poteva fare no poteva essere anzi una copertura col senno di poi e vedete sembra tutto più ovvio ma si poteva usare anche i luna e depositarli su un exchange che ti dà il coinem future e shortare no shortare con un pari controvalore tu è come se fossi neutrale e inoltre hedgi dal rischio di the peg no c'era una quella possibilità lì comunque il discorso dello short di copertura su btc prendo una fetta dei btc quella da cui mi voglio coprire e la vado a utilizzare come collaterale per uno short su un future a scadenza quindi insomma quella parte lì shorta se scende c'è una parte di profitto chiaramente la parte long è ancora dominante quindi se scende io ho una perdita netta alla fine però minore e nel ribilanciamento vado a rigestire tutto cioè anche lo short rimane parte della della fetta btc questo è il discorso allora io ho spostato ost su ftx due giorni fa non li ho venduti rimango tagliato eh non lo so bisogna informarsi rimani cioè continua a seguire continua a seguire Luca tanto di cappello nonostante ora tu abbia venduto gli ost la tua disponibilità per chi chiede chiarimenti su l'una ost è esemplare guarda io davvero se posso aiutare qualcuno lo faccio più che volentieri perché insomma è un periodo un po' difficile per tutti questo e bisogna aiutarsi a vicenda non bisogna puntarsi il dito non bisogna odiarsi non bisogna fare del teatro fatto male bisogna solo avvicinarsi l'uno con l'altro e darsi una mano dove possibile questa è la mia onestissima opinione io farò questo quindi e questo è poi come vedi la risalita di oggi potrebbe essere una bull trap o un retest in che senso in che senso di btc allora aspetta allora vediamo ah oddio dipende sai perché dunque abbiamo il livello 32.000 che è il livello chiave era quello sul settimanale e è stato attaccato due volte oggi no in realtà questo è un po' il primo livello da recuperare anche se purtroppo il dump origina da qui quindi bisognerebbe tornare qua sopra sopra i 40.000 sembra molto cos'è un più 20 no un più 30% bitcoin non stupisce più nulla però sembra lontano quindi step by step il primo obiettivo è recuperare i 32 magari entro fine settimana così riusciamo a come si dice a chiudere sopra il supporto e poi andremo a vedere i 40 per il momento però finché rimaniamo qua sotto è tutto ai massimali del bearish no perché questa è la situazione poi 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 vediamo i volumi di oggi mi puzzano rispetto a quelli degli altri giorni sono alti sono alti sono abbastanza alti i volumi degli ultimi giorni quindi vediamo come che succede vediamo un po' perché sembrano in accelerazione cioè sono associati comunque a un ribasso ma per il momento adesso vediamo vediamo bisogna capire un po' dove ci stabilizziamo bisogna far finire la fase volatile la fase volatile è quella poi merge th rischioso come mai perché è rischioso il merge th non lo so ieri in live Mauro ha detto che gli squali se vogliono se la mangiavano l'una ma gli istituzionali se vogliono si mangiano anche bitcoin sono d'accordo con te sinceramente sono d'accordo con te perché nel senso che dire il mercato in generale è tutto manipolato è completamente in balia dei grossi capitali ma il mercato azionario il mercato il mercato crypto è ancora più piccolo quindi anche bitcoin i pump i dump il caso di Elon Musk lo stesso sailor anche a un altro cioè ci sono comunque delle persone che hanno più potere e lo sfruttano per manipolare questi asset quindi che sia luna ethereum o bitcoin sono tutti comunque manipolati ma ancora di più sono manipolati quelli di quali tradizionali perché hanno ancora più potere che possono fermare il trading fermare cioè così nel senso non lo so nel mondo finanziario purtroppo i ricchi hanno più potere è così è così poi andiamo avanti andiamo avanti allora 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 su nexo in molti avranno le monete vincolate su nexo poi si c'era anche il lock purtroppo e lì ragazzi purtroppo sono le controindicazioni anche anche di quello poi poi cos'altro abbiamo di bello luna ha raggiunto il peg con shiba ogni tanto riderci su fa anche bene perché sennò qua da bth di anchor ad exchange ci vuole la trasformazione da bth alla versione wormhole quindi v e bth qualcosa del genere poi da wormhole lo brigi su ethereum e lì poi sei tranquillo perché poi da lì con lido lo puoi unwrappare farlo diventare ethereum e poi te lo porti su exchange senza senza nessun tipo di problema questo questo è questo è però ad ogni avvenimento si gridava btc come una bolla pronta ad esplodere ma poi non è mai successo è vero nel senso è sai anche anche bitcoin visto da fuori da molti è visto così no come una bolla come un ponzi e se dovesse fallire direbbero avete visto ve l'avevo detto nel senso alla fine siamo tutti all'interno di questo tutti nella stessa barca secondo me massimalisti non massimalisti cioè chi è massimalista di bitcoin e dice del resto della defi che è uno schifo è lo stesso di chi è tradizionale dice che bitcoin è uno schifo cioè io la vedo un po' così bisogna essere un attimino flessibili senza esagerare con lo shitcoinismo ovviamente ma bisogna essere flessibili penso tutti sulla stessa barca in un mare di merda esatto in questo momento abbastanza in questo momento sì e progetto cult dao suet non conosco non so cosa sia dunque 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 ma davvero pensavate che diventavamo tutti magicamente milionari a suon di apy pazza e credo che nessuno lo pensasse perché a parte che il 20% non è un apy pazza e non è da diventare milionari e poi comunque l'obiettivo non è fare all in è una parte dell'alloccazione il solito discorso dell'allocazione sì però btc nella sua semplicità ha dei sistemi di check and balance automatici difficili da battere ma bitcoin è superiore non lo metto minimamente in dubbio non lo metto minimamente in dubbio ma luna è una truffa a tutti gli effetti oppure è stato panico ragazzi luna non è uno scam non è stata una truffa questo bisogna imprimerselo nella mente è stato un esperimento una chain un protocollo basato su una stable coin algoritmica che aveva questa debolezza di fondo questo rischio di fondo e il rischio si è manifestato c'è stato questo evento che lo ha manifestato lo ha fatto insomma collassare proprio perché non non ha passato uno stress test così forte ma non è sbagliato definirlo uno scam non è assolutamente così cioè rendetevi conto di quanti protocolli c'erano sopra di quanti sviluppatori di quanto tvl era una chain un layer one no e c'era quel problema lì strutturale aveva un problema strutturale molto grave ma bisogna fare fare chiarezza su questo perché c'è una disinformazione incredibile a riguardo cioè purtroppo poi in questi in questi contesti si cavalca l'onda no negativa del sentiment che c'è tra chi ha perso soldi per dire è tutta una truffa è tutt'uno scam e questa disinformazione ai massimi livelli perché non si fa così non si fa così e purtroppo ragazzi io non so che dire bisogna capire bene un protocollo prima di di utilizzarlo ognuno deve farsi poi la propria la propria idea perché parlate al passato ancora viva lo so ragazzi però io mi metto io mi metto in questo in questo in quest'ottica come facevi essere bulli su luna dato questo problema strutturale che aveva ma guarda te l'ho detto perché per la valutazione che avevo fatto io è un problema comunque comune alla maggior parte della DeFi la riflessione che avevo fatto era che comunque aveva già passato degli stress test in passato superati e aveva raggiunto una dimensione tale che reputavo sbagliandomi perché col senno di poi mi sono sbagliato reputavo basso il rischio che questo problema strutturale potesse manifestarsi con questa portata e quindi questa era la ragione questa era assolutamente la ragione quindi nel senso me ne le responsabilità sul mio investimento me le sono prese perché ovviamente ha un danno diretto sulle mie finanze questo è il discorso credo che qualsiasi investitore anche tra i migliori al mondo cioè proprio al mondo almeno un errore l'ha fatto io credo che errare è umano l'importante è contenere il danno dell'errore perché tutti sbaglieremo sempre tante volte fidatevi io sono esposto io vi condivido tutto quello che faccio quindi farò altri errori ragazzi ascoltatemi bene farò altri errori e quindi non imitate tutto quello che faccio per poi scaricare la colpa su terzi su di me se fate lo stesso errore perché io ve lo dico in anticipo che ne farò altri di errori perché chi non rischia non ottiene nulla altrimenti io me ne sto in euro non faccio niente non corro rischi non faccio errori ma nel momento in cui investo in qualcosa se compro bitcoin e bitcoin va a zero ho fatto un errore diciamo tutti non succederà mai esiste lo 0,0001% di possibilità che accada se vado full crypto e domani c'è un dump del meno 30% faccio un errore e quell'errore si ripercuote direttamente sulle mie finanze io sono responsabile delle mie finanze ognuno è responsabile delle sue mi raccomando è importantissimo questo perché io sbaglio voi sbagliate tutti noi sbagliamo e quindi io sono pronto a sbagliare nel senso non sarà non è la prima perché in passato ne ho fatti tanti di errori ma e non sarà l'ultima non sarà l'ultima esatto esatto allora ma parli di problema strutturale io non ho ancora capito quale sia ma il problema strutturale si sbagliano esatto il problema strutturale è il la stablecoin algoritmica che è basata su quel sistema no di emissione di luna di nuovi luna per recuperare il peg e se questo è oggetto poi di bank run ovvero tutti contemporaneamente escono a una velocità estremamente elevata non si riesce a mantenere il peg e se si supera una certa velocità che è quello che è accaduto si sapeva che accadeva cioè il protocollo era fatto così c'è scritto anche sul white paper e se accade a una velocità maggiore di un certo limite non c'è più la possibilità di recuperare il peg si entra in quella che si chiama death spiral ed è questo il suo problema strutturale noto poi nel senso si può dire io valuto che la probabilità che ciò avvenga è x e in base a quello decido se entrare o no ma ripeto questa cosa della bank run è comune alle banche alla cefai alla defai un po' dappertutto se manca la liquidità manca il senso di manca proprio le fondamenta di un protocollo questo è il problema ciao Luca come faccio a riprendermi i miei bet su anchor terra bridge è bloccato usa wormhole usa wormhole ti consiglio di usare wormhole stando in euro perdi l'1% al giorno sti già esatto stando in euro non fai errori anzi c'hai una certezza sola che perdi stando in euro ma investendo in stocks puoi perdere investendo in crypto puoi perdere cioè puoi perdere ovunque e quindi uno deve ragionare e dire come voglio ne abbiamo parlato a Bologna era lo speech di Bologna come voglio strutturare il mio portafoglio che per me è un portafoglio sensato tengo una parte molto spinta in crypto bene tengo un cuscinetto liquido che mi va ad ammortizzare la volatilità è così no penserei mai di studiare il progetto cult il nome diciamo che non mi fa proprio impazzire lo vediamo lo vediamo magari magari sì magari no un euro nel 2010 erano 1,60 dollari e già l'euro l'euro non benissimo non benissimo ma vedendo quanti soldi sono girati com'è possibile che i Mace Media non ne parlino ragazzi io spero che non ne parlino che con l'ignoranza che hanno potrebbero solo dire cavolate cioè non avrebbero la più pallida idea di cosa stanno dicendo comincerebbero a parlare di truffe di ponzi di cose quelle parole che te le metti in bocca facilmente non vogliono dire niente quindi io davvero mi auguro che i media tradizionali se ne stiano nel loro magari chiedano a qualcuno che ha capito cosa è successo di intervenire perché altrimenti se la Repubblica si mette a parlare mi viene mi viene male solo pensarci Luca secondo te si ripeteranno attacchi di questo genere penso proprio di sì penso proprio di sì perché nel senso dove dove c'è una possibilità di guadagno e c'è uno squalo pronto a sfruttarla la sfrutta purtroppo è così se vedi luna su Binance è tutto un pump and dump poveri noi poveri noi ne hanno parlato ieri al TG5 delle 20 non oso immaginare ragazzi non oso immaginare mamma mia mamma mia lasciamo i media le iene striscia fuori da questo mondo ma infatti forse forse è meglio forse è meglio oggi ho aperto youtube sulla tv e tra le ricerche trending c'era bitcoin terra luna che poi ci mettono dentro anche bitcoin ovviamente perché dicono tutta la defi è ancora immatura sono completamente d'accordo sono d'accordissimo perché è vero è un ogni nuovo incidente come questo è una maturazione per la defi all'inizio è partita con il DAO hack di ethereum cioè quello è stato il primo esperimento il primo errore cioè tac subito pensate se avessero detto basta non funziona non sarebbe nato il mondo rc20 il DAO hack del 2015 mi pare cioè ragioniamoci cuscinetto di liquidità lo mantiene in stable coin o a valuta fiat lo diversifico un po' lo diversifico un po' perché in parte in stable coin soprattutto usdc e in parte anche in valuta fiat Luca ma il tuo long è andato in stop loss no perché lo stop loss lo metto se chiude il settimanale sotto ai vecchi minimi delle shadow quindi vediamo nei prossimi giorni oggi il mio collega sessantenne a lavoro mi ha chiesto cosa è successo con le criptomonete che ha sentito alla radio che sono state truffate milioni di persone ecco appunto poveri noi poveri noi mamma mia poi chi sfrutta l'ignoranza degli ascoltatori ignoranza in senso buono per diffondere disinformazione cioè sarebbe da punire secondo me cioè chi comincia a diffondere panico dire truffa scam così solo per far terrore generale è veramente un tu non ti senti truffato Luca no non mi sento truffato sono i rischi del mestiere ragazzi sono i rischi del mestiere se domani il pool di curve dove ho depositate le stable viene acchierato non mi sento truffato mi sento che mi sono preso un rischio gli ho dato una certa stima magari l'ho sottostimato ho sovrastimato ho perso e quello me lo incasso ma non è che qualcuno mi ha truffato perché qualcuno ha rubato qualcosa o architettato chissà che cioè non c'entra nulla non c'entra proprio nulla nulla di nulla cosa ne pensi di Solana? sono esposto al 2% rendiamoci conto che certi APY devono puzzare non c'entra niente ragazzi non c'entra niente perché non è stato quello a innescare la fuga di massa l'APY di Anchor che era un 20% che non è altissimo rispetto al resto della DeFi no alla media comunque ci sono dei 10 12 in Cefai è l'8 9 ma anche di più no non è il 2% al giorno che quelli sono i ponzi palesi no che ti danno il 10% al mese il 2% al giorno lì si parlava di un APY del 20% annuo che non è così assurdo no e c'era la yield reserve che lo dava non è che si generava dai depositi degli altri o da chissà che cosa no quindi lì c'era un meccanismo chiaro e la yield reserve era ancora piena quindi non è quello il punto il punto è stato l'attacco che ha causato il depeg se non fosse avvenuto quell'attacco non sarebbe successo nulla è questo il punto e quindi anche lì è disinformazione parlare dell'APY di Anchor come della causa di tutto non c'entra non c'entra proprio non c'entra proprio mi spiace ma davvero informatevi bene ve lo chiedo per piacere capite cosa è successo perché è importante continuerà il Paxucro? al momento sì al momento sì assolutamente che ne pensi potrebbe risalire almeno un dollaro eh ragazzi non lo so qui è il momento sfera di cristallo momento sfera di cristallo comunque davvero per concludere poi vi saluto perché insomma vi sto facendo un pippone che non finisce mai il nome per tirare fuori gli UST bloccati su Anchor gli UST in che senso gli UST li puoi spostare gli IB e TH dicevo quello lì con Wormall il Wormall Bridge ti giro anche il link aspetta eccolo questo è per brigiare IB e TH Luke leggi Revival Plan sì adesso me lo leggo me lo leggo bene ci ragiono bene che l'abbiamo letto prima tra l'altro puoi parlare dei rischi psicologici che si rischia di incorrere eh ragazzi i rischi psicologici se si investe ci sono ovunque 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 nel senso tu investi in stocks magari per te va bene per te non va bene ti mette ansia lo stesso cioè dipende a personale c'è chi è più suscettibile chi meno è da lì che bisogna capire no qual è la mia tolleranza al rischio farsi questa domanda se la nostra tolleranza al rischio è bassa perché non lo so abbiamo un capitale di cui potremmo aver bisogno quello non va investito un'altra cosa che abbiamo detto sempre a Bologna è di tenere del capitale pronto non investire tutto è veramente fondamentale questa è l'abc dell'investire non non sottovalutate questa cosa ma al di là anche se investiste tutto in sp500 per dire non va bene se non avete liquidità pronta perché è un problema e quindi cioè ripeto per per chiudere per salutarci io vi incentivo sempre a pensare con la vostra testa ma non solo da un punto di vista dell'investimento ma anche da un punto di vista di quello che leggete in giro perché adesso se ne leggono di tutti i colori di tutti i colori era una truffa era uno scam era un ponzi era qui era lì è colpa sua è colpa sua vi prego avete questa ce l'avete no? ce l'abbiamo tutti usiamola usiamola e abbiamo senso critico non ascoltiamo solo chi vuole aizzare chi vuole fare notizia chi vuole sfruttare la situazione a suo vantaggio o i media che sputtano sangue su contro le cripto sfruttando questa cosa mettete sempre tutto in discussione quello che dico io in primis perché io faccio tanti errori quanti voi ma anche quello che dicono gli altri non siate i burattini di nessuno non fatevi manipolare dalle notizie non fatevi manipolare da personaggi ma usate la testa è la cosa più preziosa che avete vi prego usate la vostra testa vi prego vi prego questa è la mia missione e sto cercando di far sì che accada ok? questo è che allocazione cripto? ultima domanda ritieni ragionevole in un portafoglio diversificato io personalmente ho il 25% poi anche lì è una cosa personale molto molto personale quindi per me io ho una tolleranza al rischio che reputo abbastanza alta no? perché comunque ho liquidità da parte ho altri asset non ho debiti no? è tutta una serie di cose bisogna fare delle riflessioni non si può dire dai dimmi un portafoglio che lo copio è follia pura follia pura follia pura ragazzi vi prego amici detto questo io vi auguro il meglio davvero a tutti spero che riusciate a sbloccare asset bloccati non abbiate subito un danno eccessivamente elevato che vi possa dare una lezione senza portarvi appunto nessun tipo di danno vi auguro col cuore tutto 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 il meglio noi ci vediamo domattina col corso base sulla sicurezza quello la puntata 9 che insomma lo continuiamo e non è che era finito e poi ci vediamo in live lunedì come sempre vi auguro un buon weekend una buona serata e alla prossima